Uomini e donne, trovati un lavoro, la di Armando Incarnato alle critiche del web. Class uguale P1 Armando Incarnato è uno dei protagonisti più discussi del dating show Uomini e Donne. Class uguale P1 Il Cavaliere del Trono Over infatti si trova spesso al centro di dibattiti e discussioni. Sia all'interno della trasmissione che fuori. Class uguale P1 Da anni nel programma di Maria De Filippi, Armando non è riuscito a trovare la sua anima gemella. E questo ha causato non poche polemiche. Class uguale P1 Il Cavaliere infatti, è stato più volte attaccato da Gianni Sperti. Che l'ha accusato di non riuscire a portare a termine una storia d'amore rispetto ad altri suoi colleghi del parterre. Class uguale P1 Non solo. Anche il pubblico da casa ha spesso attaccato Armando, invitandolo a trovarsi un lavoro. Class uguale P1 Nelle ultime ore, Il Cavaliere ha voluto rispondere ironicamente proprio a questo. È una storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Class uguale P1 Nelle ultime ore, Il Cavaliere ha voluto rispondere ironicamente per la sua anima gemella. All the prossevii sono andati nel corso del per moren del motorista. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info